Benvenuti a Unifg Insights, brevi pillole per aiutare gli studenti ad orientarsi nel mondo dell'università di Foggia. Benvenuti su questo video dove vi spiegherò come recuperare la password del nostro account di posto elettronica istituzionale unifg.it. Questa procedura potremmo usarla anche se non siamo certi che ci sia stato creato l'account di posto elettronica, possiamo verificare procedendo come segue. Ci colleghiamo con la nostra webmail, scriveremo nella barra di indirizzi posta.unifg.it. Ora noi già ci siamo sulla casella però ve lo faccio rivedere. La pagina che si aprirà troveremo già il nostro account perché ci saremo collegati in passato altrimenti lo andremo a inserire. In questo caso clicchiamo sull'account password. Ci verrà chiesta la password. Non la ricordiamo. Sotto abbiamo un link password dimenticata. Lo clicchiamo. In questa pagina ci verrà chiesto di inserire l'ultima password che abbiamo utilizzato. Andiamo avanti su provo un altro metodo. Quindi ci verrà chiesto il numero di cellulare che abbiamo utilizzato sulla nostra casella di posta elettronica. Nel mio caso inserito quindi ci facciamo inviare il messaggino. Appena arrivi il messaggino lo inseriremo nel campo a video. Attenzione nell'sms c'è una g che precede il numero. La g non la inseriremo. Attendiamo il messaggio. A questo punto il sistema ci chiede di impostare una nuova password. È consigliabile usare una password lunga almeno 8-10 caratteri che contenga almeno una maiuscola, almeno una minuscola, almeno un numero e possibilmente anche un carattere speciale, punto esclamativo, chiocciola, eccetera. Inseriamo due volte la password e procediamo. A questo punto saremo dentro la nostra casella. Dicevo all'inizio del video se non sappiamo se siamo in possesso di una casella di posta elettronica possiamo provare ad accedere. Così facendo inseriamo la mail che è nel formato nome-cognome.matricola-unfg.it Andiamo avanti, un clic su passo dimenticata e procediamo a ricopero col numero di cellulare così come abbiamo appena fatto. Il video termina qui.